buonasera a tutti sono luigi naracus e per video e bentornati su danza combatto versione jump con l'analisi dei nuovi free to play dell'anniversario portato adesso in quanto preso di ssr poi sono datiature ora esa muta e lo realizzeremo in un video a parte partiamo con gokui partiamo con gokui il quale dopo secoli ha ricevuto un tour e anche un esa diventando un pg tutto sommato interessante abbiamo dopo l'esa 10.000 full ability naturalmente 790 hp 10954 attacco 7168 di difesa la leader skill diventa universal sag 77 per cento alle stazze 3k e i fisici 3k 50 per cento niente di eccezionale ragazzi non lo giocate di certo per la leader skill la passiva tutto sommato non è neanche malissimo a tocchi difesa 120 per cento passiva da tour passiva da dockham festival ragazzi più e questo è molto interessante 3k e 30 per cento a chi difesa a tutti gli alleati universe survival saga questo pg ragazzi 50 per cento di evade gli attacchi questo pg ragazzi in realtà come unico però richiamarsi gokui e quindi ha la concorrenza abbastanza spietata se mi permettete dell'lr e dell'intesa ma ciononostante secondo me trova degli ottimi spazi in un team per esempio il fatto che volendo si può tranquillamente giocare se non giocate gokui nel senso team gokusa golden o u17 altra turnazione vi tenete gokusa e l'altro tra golden e u17 a ruotare muten e tien lui altro buffer bisogna fare un turbo u7 per tanto un altro buffer dovrebbe essere u7 fate un turbo u7 che si becca tutta la leader con bg comunque ottimali cioè questo gokui riesce a ovviare un po i difetti dei buffer quindi avere poca difesa sia grazie al 120 per cento iniziale che non è affatto male sia grazie all'effetto kaioken nella special altra cosa ottimale se al fatto c'è un per cento di eva e dare un 30 per cento alle stats che è tanto ora non siamo ai livelli di muten e tien come vedremo tra poco ma ragazzi questo è un signor pg d'altro canto in alcuni account è totalmente inutile perché alcuni account magari non hanno i team completi hanno il gokui int o il gokui str che risultano praticamente un'unità migliore di lui più iniziamo un attimino a questo punto può essere un'unità molto buona o può essere un'unità quasi inutile a mio avviso la più barra ls è il giusto tier per questo pg perché purtroppo ti costringe a non giocare carte molto forti può però essere per team turbo team gokusa centrici altro la scelta migliore però non tutti hanno gokusa e se non è gokusa barra non ha i supporti adatti per gokusa potrebbe non essere la cosa migliore a giocare questo gok quindi ha i suoi pro i suoi contro molto semplicemente build full additional il resto critico ragazzi questi non mi piacciono cioè mi dispiace ma sono gli unici free to play che non mi piacciono di questo anniversario ma andiamo con ordine non sto anutisco non è un video allora krillin è 18 int 10.546 hp 11.174 attacco 6.816 di difesa leader joined force 3 chi è stan 7% o int 3 chi è 50% passiva le orb fisiche diventano int ok simpatica per la punching con 1 lr int lancio una special additional se sono prese più di 5 orb int che è quasi sicuro attacco di 30% per ogni attacco fino a 180% nella special hanno effetto kaioken greatly raises attack e buonale perché non mi piacciono sono lenti come la morte ci ho visto gente gridare al miracolo per vedere 7 milioni e rival ragazzi quelle sono rival fatte apposta per vedere che ci può arrivare ma non ci arriva la rival a chi di prima è un robot simile in tornazione in una rival se ne manco se sei free to play cioè puoi essere free to play e giocarlo assolutamente sì ma c'è di meglio c'è un minimo di pg li avrai quindi riescono sia ad arrivare a danni davvero alti perché sarebbe mentire e negarlo ma non mi piacciono cioè li userò per l'esa di muten e poi probabilmente li butterò nel cesso link, spearing fighter, coraggio, cold judgment braniacs, sole support turno made of power, shut in the limit uno vs Valsaga rappresentanti, joint battle with ma buon buildati additional il resto volendo di neva perché comunque i primi turni le buscano come se non ci fossero domani avendo pochissima difesa finché non fanno gli attacchi, non giocateli primi non hanno nessun boost difensivo fino ad allora una volta caricato il totale dovrebbero arrivare comunque a dei valori quanto meno decenti ha bisogno di almeno tre turni però sono molto 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 lente mi dispiace non è il mio metodo di gioco molto semplicemente non gioco in questo modo gioco con pg più veloce sarò io sarò io assolutamente ragazzi se non dico che non sono io però davvero non mi piacciono per nulla e infine lascio sempre il meglio per ultimo prende le cose sbagliate cioè quelle cose che ti chiedi come hanno fatto a nascere ovvero Roshi Tien ragazzi cosa non è sta bestia oltre a prendere Tien buffer colore tech per quanto riguarda Goku e attenzione non dico in generale ma per quanto riguarda Goku usa è praticamente buttarlo malamente nel cesso perché non ce n'è più bisogno ormai sono delle cose che non hanno il meno senso di esistere allora statistiche 9891 HP 11.547 attacco e 6.857 di difesa allora fermo restando che la leader skill comunque non fa cagare totalmente perché Earthlings di cui non è che abbiamo chissà quali leader quindi per un battlefield esempio potrebbe essere carino adesso si può usare Earthlings nei primi stage quindi Earthlings tre chi e stanno a 7% stats o tech tre chi e 50% stats abbiamo la passiva attacco e difesa 70% inizio turno e fin qua vabbè più 20% attacco e difesa per ogni attacco subito fino a un massimo di 70% si calcolano diversamente dopo 4 attacchi che subisce sto roba 257 attacco e difesa e già qua direste cavolo tanta roba ragazzi tre chi e 40% stazza e rappresentanti del settimo universo è un cazzo di Tarles che si prende la leader skill hanno preso Tarles il nostro dio onnipotente gli hanno fatto la barba gli hanno tolto i capelli gli hanno messo gli occhiali da sole un terzo occhio e hanno fatto free to play è limitato a universe 7 ma allo stesso tempo non è limitato ad universe 7 in quanto sto robo è tipo staple ovunque giochi gokusa e probabilmente staple in qualsiasi team di universe 7 è collegati quindi anche un survival saga di universe 7 e un journey of force di universe 7 è tantissima ma proprio tantissima roba come se non bastasse giusto per prendere il TNTech e buttarlo al cesso la sua special diminuisce sia attacco e difesa avversaria ma anche sia la special che con le novità che avremo a inizio settimana prossima su gokusa ragazzi che vi devo dire enorme sotto ogni punto di vista questo è probabilmente il miglior free to play di questo anniversario sotto molti aspetti ma aspettate perché abbiamo ancora mute nell'R e là andiamo a livelli che non vedavamo da veget str praticamente fidatevi comunque questo pg buildatelo alla fin fine additional critico direi che è perfetto link experience fighter brain astrogar mail con gianna solid support link solid support con gokusa tournament of power shattering the limits tantissima roba barato sotto molti aspetti must have da rimbonare se 18 crit difficilmente li rimbonerò gokui forse lo rimbono ma non lo porto di 68 sa 15 loro sa 15 rainbow instant troppo grossi troppo 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 grossi sono davvero esagerati detto questo vedetevi cosa ne pensate di questi free to play se li avete già farmati provati e come vi ci trovate noi ci vediamo a questo punto penso domenica con il video pool dei 66 delle 66 dei 66 ticket e poi settimana prossima con le ultime analisi vi auguro una buona serata e alla prossima